Buongiorno, ah sì, Giga buongiorno No vabbè mi sono lerciato tutti i pantaloni, non ho parole Oggi, signori, siamo tornati con il quarantesimo episodio della serie sulle vostre postazioni da gaming Ebbene sì, ammetto che questa è stata probabilmente l'intro peggiore di sempre Decisamente Ciao ragazzi, ben tornati su Biggerale ma soprattutto benvenuti con questo nuovissimo video Ma soprattutto ben ritrovati con questo nuovo episodio, come detto all'inizio, della serie sulle vostre postazioni da gaming Difatti, come ben sapete, o almeno credo, di tanto in tanto mi piace portare questa serie qui sul canale In cui appunto vediamo tutte quelle che sono le vostre postazioni che mi avete inviato la mail che trovate in descrizione E tra l'altro mi raccomando se volete partecipare anche voi vi lascio qui da qualche parte la mail O comunque trovate tutte le info in descrizione e dunque inviate le foto e buona Detto questo non voglio perdervi troppe chiacchiere e dunque iniziamo subito E dunque rieccoci qui ritornati dopo un bel po' di tempo perché effettivamente l'ultimo episodio risale a quasi un mesetto fa E oggi per l'appunto andiamo di nuovo a vedere 5 setup che mi avete naturalmente inviato E andiamo come sempre a vedere un po' le postazioni in generale, i componenti, pc, periferiche, non periferiche Insomma tutte queste cose Ma prima di fiondarci direttamente sulle nostre postazioni del caso Vi ricordo di lasciare un bel like sotto a questo video Che è molto importante per supportare questa serie E poi cosa più importante nel caso siete nuovi iscrivetevi a questo canale Benissimo quindi abbiamo detto tutto quanto, assolutamente sì E dunque iniziamo con la quinta posizione di oggi che va ad aggiudicarsi Non me lo ricordo Va appunto ad aggiudicarsi ad Ale E quindi direi come sempre di vedere un po' le cose in generale Senza andare troppo nei tecnicismi super mega incredibili Perché questo appunto non è un video tecnico E una cosa che possiamo dire sin da subito è che chiaramente questa postazione è molto molto minimale Infatti diciamo che questa è più una postazione pensata per il gaming da console Perché appunto abbiamo la playstation 4 pro proprio dinanzi a noi E per quanto riguarda tutte le periferiche abbiamo questa tv Che non mi ricordo, in realtà forse non neanche me l'ha scritto Fatto sa che abbiamo questo tv super mega gigante Sarà un 50 pollici Forse anche 55 Al quale poi lui ci ha affiancato diverse periferiche Come per esempio la tastiera Ajax AK33 Tastiera che ormai bene o male conosciamo abbastanza bene Ed è affiancata tra l'altro di colorazione bianca molto bella Ed è appunto affiancata ad un mouse che dovrebbe essere il Logitech G502 Mi pare di capire così Poi non lo so Magari fatemelo sapere nei commenti Il tappetino è di questo marchio di cui onestamente non so riconoscere il brand Comunque fatto sa è un tappetino normalissimo Abbiamo un assistente vocale di Google spostato qui sulla destra Un pad della playstation 4 Che credo sia in colorazione gold Penso proprio di sì E poi come ultime cose abbiamo un microfono E poi questo che credo sia Non so se di preciso un iPad O comunque un tablet Non facciamoci troppi pensieri mentali a caso Detto questo comunque che dire Tempo che io gioco con il mio tappo della fotocamera Una postazione assolutamente molto semplice Però che comunque ci sta Non è assolutamente male Ti ringrazio comunque naturalmente per avermi inviato le foto Ma adesso andiamo a vedere il quarto setup di oggi Che è quello esattamente di Janji Beh assolutamente possiamo già dire postazioni un po' più articolate In quanto abbiamo il doppio schermo Anche se effettivamente questo televisore qui è un po' calibrato male Come monitor va Non preoccupiamoci di questo E andiamo comunque come sempre a vedere tutte le periferiche in dettaglio Che tra l'altro possiamo anche apprezzare meglio qui In quest'altra foto Aspettate un attimo Prima ci sono delle priorità C'è la campagna alienativa? C'è la campagna alienativa Un punto a questo ragazzo Allora per quanto riguarda le periferiche abbiamo Come nel caso precedente Una tassiera che è l'Agex H33 Però questa volta in formato Black Edition Che è fondamentalmente uguale identica all'altra Cambia solo il colore Abbiamo poi un mouse Che ci ha scritto essere parte di un kit Insieme al tappetino di casa Storm Anzi no pardon Ho detto una cavolata Il kit si chiama Storm Però l'ha acquistato al GameStop Che sono due cose un po' distinte Per quanto riguarda altre periferiche Come possono essere ad esempio il microfono e le cuffie Abbiamo dinnanzi un microfono Che è il Tonor C777 E lui ha deciso anche di agganciarlo ad un'asta Cosa che assolutamente è approved Ed infine per quanto riguarda le cuffie C'è scritto essere delle Bixelint Ovviamente RGB Per quanto invece riguarda una cosa che non ho visto I monitor Cosa che è stranissima Perché io di solito parto sempre dal primo analizzo dei monitor Abbiamo come monitor principale un 24 pollici Semplicissimo a 60 Hz Che ci sta E un altro che invece è più un televisore Che lui ha convertito come monitor Solo l'unica cosa Calibra un po' bene la risoluzione Che insomma Però è anche vero adesso che ci sto facendo Una riflessione sopra Su determinate televisioni Che hanno risoluzioni un po' più particolari Tipo 1024x768 Tutte queste cose strane Di solito è molto difficile Trovare una calibrazione giusta E talvolta magari bisogna anche utilizzare Risoluzioni inferiori Per avere una qualità decente Vabbè comunque questi sono Di lemmi strani Che ovviamente non ci poniamo qui Altrimenti sennò facciamo notte E andiamo a vedere quindi il PC Il PC è davvero molto molto carino E con annessa diverse componenti Molto interessanti Come per esempio Il Ryzen 7 2700X Come processore Dissipato da questo dissipatore liquido Della Deepcool Anche questo è molto carino L'ho assemblato in un PC Un qualche mesetto fa Molto bello Come RAM abbiamo Delle G-Skill Da 3200MHz 16GB Ed infine Dolce di sinfondo Scheda video Zotac 1060 Da 3GB Direi assolutamente Niente male Forse peccato per la scheda video Che fa leggermente un po' bottleneck Con la CPU Però per il resto Comunque è molto carino Anche con tutte le varie ventole Guarda quante action figures Che ci stanno qui Molto belle Va bene comunque Ringraziamo Giagi Per averci inviato tutte le foto E dunque Adentriamoci con la top 3 Di questo video Partendo dal terzo setup E andiamo quindi Con la terza posizione di oggi Che va a Tra virgolette Sempre a giudicarsi Perché ricordo Che non è assolutamente Una competizione Non si vince nulla Comunque fatto sta Che appunto È la postazione di Jacopo Davvero davvero Molto molto carina A mio avviso Perché è veramente Molto molto minimale E la cosa in realtà Mi piace un sacco E poi abbiamo anche Due tastiere Io ancora questa Non l'ho capita Però comunque Ad ogni modo Perché ci sarà sicuramente Comunque insomma Andiamo ad analizzare Quelle che sono Le varie periferiche Partendo come sempre Dai due monitor E il principale È esattamente un Samsung Quello classico curvo 24 pollici 144 Hz Mentre il secondario C'è scritto essere Di HP Sempre il classico Questo monitor qui Meno male lo troviamo Praticamente sempre Ed è il famigeratissimo HP 24 pollici A 75 Hz Per quanto invece riguarda Quelle che sono le periferiche Abbiamo due componenti Molto molto interessanti Partendo dalla tastiera Che è una GK61 Non c'è scritto esattamente Gli switch Io mi ricordo che sul canale Vi ho portato la recensione Della GK61 Con gli switch yellow Che sono una roba Assolutamente OP Anche forse Per il mio tipo Di utilizzo Fatto sta che comunque Affiancata a quest'ultima Troviamo un glorious Model O Come mouse Anche questo davvero Tanta tanta roba Come prodotto E poi troviamo Questa tastiera Che non ho capito bene Se lui la utilizzi Oppure l'ha messa Proprio lì così Per dire Ah io ho un'altra tastiera Ah no aspetta C'è scritto Tastiera GXT Per i segni In che senso i segni Vabbè comunque Non preoccupiamoci più di tanto Ci fidiamo Poi per quanto riguarda Il comparto dell'audio Abbiamo un microfono Che è agganciato appunto Come tranquillamente Riuscite a notare A quest'asta Ed è un Newer NV800 E poi come ultimissimo Componente Che mi stavo anche Quasi dimenticando Ovvero il tappetino In questo caso Ne troviamo uno Super super mega XL Infatti come vedete Prende praticamente Tutta la schivania Adesso invece Andiamo a vedere Quello che è il PC Purtroppo non ci ha Inviato tantissime foto A riguardo C'è praticamente Solo questa E l'altra foto Questa qui di prima Peccato Mi sarebbe piaciuto Vedere un pello di più Comunque ad ogni modo Il PC è proprio lui E come processione Troviamo un i5 Della serie 4000 Dissipato da questo Dissipatore ad aria Molto carino RGB Ovviamente Come RAM Credo siano In totale di 16 giga O 8 giga Boh non so Se hai dimenticato Di scrivercelo E poi va a concludere Tutta la cerchia di componenti Questa RX 580 Da ben 8 gigabyte Detto questo quindi Che dirti La postazione mi è piaciuta Poi anche il led Che ha messo dietro Va a dare quel tocco in più E ci sta E dunque nulla Ti ringrazio E adesso andiamo a vedere La prossima postazione Andiamo quindi a vedere La seconda posizione Di oggi Che vado a giudicarsi Daniel Non so ancora bene Se dovrò censurare L'immagine che abbiamo Oddio Mi è caduto un airpods Mannaggia Diciamo Non so se devo Effettivamente censurare Quest'immagine Anche se Non c'è niente di strano Però signori di youtube Io sono Vengo in buona fede Allora direi quindi Di andare a vedere Rapidamente Tutti i vari componenti Per poi naturalmente Andare a vedere il pc E direi di iniziare Dai due monitor I due sono Rispettivamente Il principale Questo omen Che troviamo qui di fronte Con il mio All out Il mio canale Che è un 144Hz 24 pollici Mentre questo secondario Che c'è scritto Essere di Philips Da 60Hz Con anessa appunto Questa immagine Basta Abbiamo capito Per quanto invece Riguarda le periferiche Abbiamo allora Come tastiera Che c'è scritto Avere un Ziu Lang Lang Non so di preciso Come si pronunci Fatto sta Tastiera meccanica 60% Carina ci sta Super mega RGB E poi come mouse Troviamo sempre Un modello Della stessa marca Della tastiera Che di quelli Come nel caso precedente Super mega leggeri Tappetino che c'è scritto Essere di casa Non solo informatica Ok In taglia XXL Poi spostandoci Sul lato audio Abbiamo delle cuffie Che sono di casa Cooler Master Mentre per quanto riguarda Il microfono Invece C'è scritto Che è sempre di casa Toner In definitiva Prima di naturalmente Vedere il pc Questa è la postazione Vista in notturna Forse avrei aggiunto Qualche striscetta a led O comunque qualche lucettina Qui e là Giusto da dare Quel tocco in più estetico Che sicuramente Avrebbe fatto il suo effetto E per il resto Comunque Andiamo a vedere Quello che è il pc Che è proprio lui Ed ha delle componenti Interessanti Partendo ovviamente Dal processore Che è un Ryzen 7 3700X Molto bello Anche il dissipatore Stock Che ti forniscono In confezione Affiancato a poi 16 giga di ram 3200 megahertz Ovviamente rgb Unica cosa che ti consiglio Su questo ambito Adesso che stavo Un attimo vedendo E di sfruttare Il dual channel Perché adesso Come adesso Non lo stai sfruttando Che detto in soldoni Letteralmente Se ci sono sulla scheda madre 4 slot Cosa appunto In questo caso Metti le ram Un banco sì Un banco no Un banco sì Un banco no Così almeno Dovrebbero lavorare meglio Poi comunque Al di là di questo Come scheda video Troviamo un RTX 3060 No aspettate Non ho capito Fatemi zoomare Ah ancora non è arrivata Ma ok Infatti stavo dicendo Ma com'è possibile Che questa sia una 3060 Vabbè insomma C'è stato un piccolo Misunderstand Comunque Non sappiamo di preciso Cosa sia questa scheda Ma insomma Ma insomma Gli deve arrivare la 3060 E va sicuramente A concludere Il setup In maniera perfetta Perché la build Di base Comunque Non è affatto male Anzi Comunque Detto questo Niente niente male Come postazione Ti ringrazio naturalmente Per avermi inviato le foto E quindi Tra una chiacchiera E l'altra Siamo giunti con La prima posizione Di questo video Che vado a giudicarsi Proprio Paolo La postazione Devo dire Che assolutamente Mi è piaciuta Sin da subito Appena l'ho vista Perché appunto Non è sempre Quella classica Configurazione Doppio monitor Sinistra Destra Eccetera eccetera Bensì qui abbiamo Uno schema un po' diverso Sia appunto Quello dei monitor Ma anche quello del pc Che come vedete È più sopralzato Sopralzato Non credo che esista Come termine Posizionato più in alto Rispetto al normale Diciamo così E quindi direi di andare Subitissimo A vedere i due monitor Che sono proprio loro E tra l'altro Ha messo anche Un wallpaper di Spider-Man Quindi 10 punti in più A te Ovviamente si scherza O forse Il principale Che sarebbe questo qui Qui in basso Esattamente un 24 pollici 75 Hz di HP Mentre quello superiore C'è scritto essere Un televisore Che è sempre da 24 pollici Sicuramente credo Che lui abbia utilizzato Una staffa Di quelle a muro Per posizionare Il televisore lì sopra Però molto molto bello Che ci abbia applicato Anche il led dietro Così da dare quel tocco in più Poi per quanto riguarda Le periferie Che forse in questa foto qui Si vede un po' meglio Sì Abbiamo come tastiera Un iPomaker SK61 Io tra l'altro Ho forse provato il modello Quello dopo Con più tasti Va beh insomma Trovate il video sul canale Mentre come mouse Un Silvercast Ovviamente RGB Per quanto riguarda Le cuffe Poi abbiamo delle HyperX Cloud Assolutamente Niente niente male E qui intanto Sto andando a caso E come tappetino Questo qui Di marca Vediamo se ci sta scritta Non ci sta scritta Molto bene Va beh insomma E' un tappetino RGB Molto molto tranquillo Poi andando a concludere Con l'ultimo Effettivo componente Di tutte quante le periferiche Ovvero il microfono C'è scritto che appunto Lui è un Razer Siren X Molto molto bello Che ha deciso anche Di agganciare ad un'asta Insomma Niente male Comunque in definitiva Questa è la visione Della postazione In lontananza Comunque che raggruppa Tutto quanto Quello che c'è Poi soprattutto Molto carine Queste striscia led E queste luci Posizionate un po' Dappertutto Come per esempio Dietro i monitor Dietro la schivania Anche in questo spazio qua Insomma Niente niente male E poi tra l'altro Ci sta anche sto coso Super mega figo Con le scritte Lo voglio anch'io Però non saprei effettivamente Dove mettermelo Va beh insomma Lo scopriremo E quindi dopo aver visto Tutto quanto È giunto il tempo Di vedere il PC Il PC che mi è piaciuto Assolutamente Però non ho capito Questo cavo qui Sleeve Che è messo proprio Che fa il passaggio completo Come componenti Comunque troviamo Come processore Resenset 3700X Affiancato da 16GB di RAM Della Gskill 3200MHz Scheda madre X570 E poi come ultimo Componente main Troviamo come scheda video Una RX 570 Da ben 8GB Assolutamente Niente niente male Come PC Mi piacciono anche Soprattutto molto I cavi sleeve Che hai utilizzato Però ripeto Non ho ben capito Questo chi Perché faccia Questo giro Incredibile Piuttosto che magari Fare il classico giro Da qui sopra Però ti dirò Nell'essere diverso Ci può stare Perché Comunque Bene o male I cavi sleeve Sono sempre belli Vederli posizionati In questa posizione Che sicuramente Non è abituale Potrebbe anche starci Detto questo Io comunque Che dirti Ti posso che solo Ringraziare Per avermi inviato Tutte le foto Anche tu E soprattutto Ringrazio voi Per aver visto Questo video Fino a questo punto Spero che naturalmente Questo quarantesimo episodio Della serie Delle vostre postazioni Vi sia piaciuto E se volete partecipare Anche voi Vi ricordo che la mail Per poterlo fare La trovate qui Da qualche parte Sullo schermo Io che dirvi Vi ringrazio per la visione Ci becchiamo Come sempre alla prossima Vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti